Il segno dell'acquario, giornata davvero bellissima per voi amici dell'acquario, è un periodo che vi sta ripagando anche un po' delle delusioni, anche un po' della fatica che avete dovuto fare nella prima parte di questo anno, di questo 2016, adesso la fortuna è dalla vostra parte, è chiaro che questa luna parla soprattutto d'amore, di sentimenti, con questa venere straordinaria, il transito nel segno dei gemelli. Stanno arrivando delle novità per i single, mentre nelle coppie già consolidate ritorna la passionalità, ritorna la sensualità e la voglia di condividere dei momenti e delle esperienze. Bene anche il lavoro con questo mercurio che vi offre nuove chance per quanto riguarda il segno dei pezzi.